Scrivere a volte viene più facile che parlare. È stato così per le donne che hanno raccontato le proprie storie, in alcuni casi denunciando anche situazioni di stalking e di violenze in famiglia sottaciute. Lo hanno fatto nell'ambito del concorso di scrittura al femminile dal titolo Donne a Cava si raccontano scrivere per superare ogni barriera, un evento giunto alla terza edizione e confermato dall'ufficio alle pari opportunità del comune di Cava dei Tirreni in collaborazione con l'associazione L'Armonia. La cerimonia di premiazione non poteva non esserci nel giorno della festa della donna l'8 di marzo e ha visto il suo preludio nell'aula consigliare di Palazzo di Città con la performance teatrale di Geltrude Barba e Pietro Paolo Parisi. I racconti che hanno raccolto i maggiori consensi sono risultati quelli di Patrizia Seguino, Sara Monetta e Filomena Filippone, quest'ultima giovanissima scrittrice di appena 14 anni. Questa è la terza edizione che noi abbiamo indetto questo concorso di Donne a Cava si raccontano quindi è un concorso di scrittura al femminile che vede coinvolte sia donne italiane che straniere che si rapportano sul nostro territorio che in un certo qual modo hanno un legame con la nostra città quindi con la nostra cava. Secondo me è importantissimo questo concorso perché attraverso la scrittura è come se fosse un inizio per potersi raccontare, per poter anche raccontare violenze subite all'interno della famiglia quindi è un punto di partenza quindi per denunciare tutti gli accaduti quindi tutti i vari fatti che si susseguono perché infatti ci sono stati molti racconti che appunto raccontavano violenze subite sia in famiglia che giustamente fuori casa. Quali sono le cose che vi rimangono in pressing di questa edizione raccontate in qualche scritto soprattutto ho visto anche ragazze che si sono cimentate in questi libri, in questi testi? Sì, infatti la più giovane ha 14 anni, ci sono stati molti elaborati, infatti adesso vedremo i primi tre elaborati che ci hanno colpito soprattutto anche perché ci sta anche un racconto di violenza che giustamente noi non sappiamo se è un far uscire fuori questa violenza oppure è una cosa costruita però secondo noi è stato giusto premiarla perché è come se avesse avuto il coraggio di far uscire fuori questa violenza.